amici ben ritrovati sul mio canale sia sulla piattaforma YouTube Roberta Bruzzone psicologa e criminologa che sulla piattaforma Facebook e sempre col nome Roberta Bruzzone psicologa e criminologa. Oggi voglio approfondire con voi una vicenda recentissima accaduta nella tarda serata del 5 agosto scorso. Naturalmente mi riferisco al brutale omicidio della signora Iris Setti ad opera di un indagato attualmente insomma in stato di misura cautelare e la notizia proprio di qualche istante fa che è stata ovviamente convalidata la misura cautelare carceraria nei confronti di Weke Chukuka il 37enne appunto senza fissa dimora che ha barbaramente assassinato Iris mentre quest'ultima l'intenta fare una passeggiata serale per raggiungere l'anziana madre di cui si prendeva cura. Allora questa vicenda peraltro piuttosto simile a molte altre che abbiamo raccontato in questi anni chiaramente ha alimentato tutta una serie di polemiche più che corrette a mio modo di vedere che di riflessioni e io con voi oggi ne vorrei fare alcune anche perché obiettivamente anche questo omicidio poteva essere largamente diciamo fermato in anticipo perché le condizioni mentali di questo soggetto erano ormai assolutamente gravissime peraltro 15 giorni prima dei fatti che hanno portato purtroppo Iris a fatere un'aggressione brutale e a perdere la vita quest'ultimo era stato segnalato nuovamente dalle sorelle perché appunto aveva dato in escandescenze le aveva picchiate selvaggiamente e in quel caso le sorelle avevano chiesto una serie di diciamo di misure per contenere questa rabbia esplosiva e questa pericolosità appunto del fratello ma questo lo vediamo tra un attimo in maniera più precisa eh l'uomo davanti al jeep si è abbasso dalla facoltà di non rispondere ma chiaramente vista anche insomma le modalità vista anche le modalità del delitto così efferate peraltro eh emerge chiaramente che i due non si conoscessero assolutamente e che ieri sera lì in maniera assolutamente tranquilla a farsi una passeggiata serale c'è ancora qualche perplessità in merito alla diciamo allo scenario in cui è maturata questa aggressione mortale perché è vero che la vittima aveva eh in particolare i pantaloni abbassati ma questo potrebbe anche essere l'esito della collutazione con appunto l'assassino e ehm in realtà l'ipotesi è che non ci sia una violenza sessuale alla base di quanto accaduto ma un tentativo di rapina finito chiaramente tragicamente. Allora vediamo un attimo chi era questo anzi chi è questo soggetto di origine nigeriana in Italia da oltre dieci anni, trentasei anni eh senza fissa dimora sottoposto all'obbligo di firma da gennaio per una serie di altri reati commessi in particolare violenza, resistenza pubblico ufficiale e danneggiamenti eh padre di tre figli e in Italia appunto da almeno dal duemilasei per quanto riguarda diciamo le informazioni al momento disponibili. Mh aveva dato in quell'occasione in escandescenze per strada e aveva aggredito numerosi passanti quando erano arrivati i carabinieri chiaramente aveva anche lì insomma messo in mostra una grande aggressività e eh aveva fatto resistenza appunto all'arresto. Eh in quel caso chiaramente il l'arresto era stato convalidato era messo era stato messo ai domiciliari ma a gennaio chiaramente la misura cautelare era stata ridotta come gravità e era stato sottoposto meramente all'obbligo di firma. Questo perché chiaramente c'è un procedimento a suo carico e inizierà un processo a breve per quanto riguarda i reati che vi ho appena elencato. Quindi questo elemento quindi questo scenario rendeva allo Stato in base alla normativa attuale impraticabile la sua espulsione dal nostro paese perché chiaramente era in attesa di giudizio e di conseguenza questo fa sì che i soggetti debbano rimanere sul suolo italiano. Questo è un problema molto serio perché chiaramente questo non riguarda semplicemente lui o solamente lui per carità ci sono anche moltissimi soggetti italianissimi che hanno le medesime manifestazioni comportamentali che hanno le medesime problematiche psichiatriche che purtroppo non sono in cura da nessuna parte e che effettivamente sono in giro e possono rappresentare una minaccia per chiunque ha la sfortuna di incrociarne il cammino in qualunque momento della giornata in qualunque posto d'Italia. In questo purtroppo nessuno può chiamarsi fuori dal rischio di imbattersi un soggetto di questo tipo. Ce ne sono almeno tracciati ad oggi in Italia di soggetti che hanno già dato ampiamente segnali della loro pericolosità sociale e della loro problematica mentale e dell'incontenibilità della loro condizione a far data diciamo dall'inizio di quest'anno almeno 1500. Questi sono i dati che sono disponibili sotto il profilo diciamo giudiziario di soggetti che sono stati già, sono già imbattuti nelle forze di polizia per problematiche legate a comportamenti molto aggressivi e violenti alimentati da una condizione di chiaro interesse psichiatrico che sono al momento a piede libero e questi a mio modo di vedere sono numeri decisamente ottimistici, stime per difetto per essere chiari perché con ogni probabilità il numero di soggetti con questo tipo di caratteristiche a piede libero oggi è decisamente più elevato ma già 1500 soggetti con le medesime caratteristiche della persona che ha assassinato Iris non mi pare che sia effettivamente una questione tollerabile. Alcuni sono extracomunitari, altri sono italiani per cui non è assolutamente un discorso di tipo ideologico il mio non mi interessa assolutamente io sono focalizzata sul cercare di individuare delle soluzioni che siano praticabili e che siano soprattutto celermente praticabili perché non è possibile che una persona che va a farsi una passeggiata nel mese di agosto per godersi anche un po' di fresco alle dieci e mezza di sera possa incappare in un soggetto con queste caratteristiche già note ampiamente e in qualche modo già conosciuto anche dal punto di vista giudiziario per essere un soggetto in grado di agire in maniera molto violenta fino a spingersi appunto a questo brutale omicidio. Dicevamo 15 giorni prima una delle sorelle che è in Italia anche lei abita un pochino fuori Rovereto riceve praticamente la visita di questo ciucuca e sostanzialmente lui la aggredisce. Lei chiede aiuto fortunatamente lo riceve a quel punto l'altra sorella avvisata della situazione chiama i carabinieri che a loro volta gli dicono guardi è forse meglio vista la situazione che lei chiami il 118 chiamano il 118 arriva al 118 loro dicono le leggo letteralmente la l'intervista abbiamo mostrato i segni delle botte ho spiegato che lui prendeva sempre di mira nostra sorella che lei quindi rischiava tantissimo prima o poi di questo passo l'avrebbe ammazzata ho insistito che ciucuca sarebbe dovuto essere ricoverato ad arco nel reparto di psichiatria mi hanno detto che l'unica possibilità era un trattamento sanitario obbligatorio e noi abbiamo chiesto il TSO l'abbiamo chiesto tantissime volte ma non l'hanno mai voluto confermare questo succede 15 giorni prima all'omicidio di Iris poi aveva aggredito precedentemente un'altra persona un ciclista e a quel punto erano dovuti intervenire di nuovo i diciamo i carabinieri e lo hanno dovuto fermare col taser quindi era in una situazione veramente di scompenso psichiatrico evidente le sorelle continuano dicendo nostro fratello è un uomo malato abbiamo chiesto in tutti i modi di farlo ricoverare minacciava di uccidersi di fare del male a tutti l'altra sorella Antonia ha insistito e ha ottenuto dal giudice solo risposte negative ma lui va ricoverato in una struttura apposita perché anche il carcere non va bene per lui insiste chiaramente la sorella e fa una domanda che obiettivamente oggi si fa fatica davvero ad affrontare perché nessuno ci ha aiutato e devo dire che è una domanda a cui mi sento francamente di accodarmi perché obiettivamente i segnali che questa persona era in una condizione psichiatrica scompensata totalmente refrattario a qualunque tipo di tentativo di cura peraltro anche avvezzo a consumare sostanze stupefacenti capite bene e alcol capite bene che in un contesto di questo tipo che ci scappasse il morto non era questione di sé ma era solo una questione di quando e purtroppo questo quando è arrivato lo scorso 5 agosto e ne ha fatto le spese la povera iris un mese fa continua la sorella abbiamo avuto i colloqui con gli assistenti sociali e abbiamo fatto tutta la trafila poi però la persona con cui abbiamo parlato è andata in ferie la pratica rimasta in attesa lo ha saputo solo di quanto accaduto a domenica io ho saputo di quanto accaduto domenica mentre ero a padova mi ha chiamato l'altra sorella linda e sono scoppiata a piangere speravo che sarebbe stato fermato in tempo sapevo che sarebbe successo qualcosa di irreparabile prima o poi non riesco a pensare a quella povera donna quindi voglio dire al di là di quello che lui aveva già fatto e delle condotte gravissime che aveva già posto in essere condotte che erano ampiamente riconducibili a una problematica psichiatrica molto seria e di difficile gestione anche le sorelle avevano ampiamente insomma chiesto aiuto e rappresentata pienamente la pericolosità in cui versava il fratello proprio perché queste crisi di violenza erano sostanzialmente incontenibili si può ravvisare una problematica legata a un disturbo borderline molto grave di personalità con questi accessi di ira con queste manifestazioni profondamente discontrollate e con appunto questa incapacità di sottrarsi ai propri impulsi distruttivi non aveva però nessun precedente di violenza sessuale indubbiamente però aveva precedenti relativamente al danneggiamento di oggetti all'aggressione di altre persone ma con ogni probabilità per procurarsi per procurarsi denaro l'uomo dormiva prevalentemente in strada molto spesso era sotto l'effetto di alcol e stupefacenti infastidiva tutti i residenti chiaramente del quartiere Santa Maria dove prevalentemente diciamo soggiornava molestava verbalmente chi passava nel parco dove poi è stata aggredita anche Iris quindi devo dire che insomma anche questo era più volte stato oggetto di segnalazione da parte dei residenti della zona era stato arrestato ad agosto del 2022 per le questioni che vi ho raccontato prima e anche qui praticamente si era reso responsabile di una serie di aggressioni diversi residenti avevano poi realizzato dei video per testimoniare la pericolosità di quest'uomo video che sono che erano alla disponibilità chiaramente anche delle forze di polizia che ritraggono lui mentre si aggira con fare aggressivo per le varie strade terrorizzando i residenti e danneggiando le auto parcheggiate chiaramente si trovava davanti addirittura aveva poco poco prima intimorito la clientela di un locale che probabilmente per il motivo che era stato allontanato immaginiamo e aveva rotto una bottiglia e si era messo a minacciare tutti i vari clienti all'interno aveva danneggiato l'auto dei carabinieri insomma devo dire che ne aveva combinate veramente di tutti i colori peraltro negli ultimi tempi aveva anche addirittura rinnovato la richiesta di permesso di soggiorno perché ce l'aveva scaduta da tempo ovviamente non è stata nuovamente concessa e anzi addirittura era stato segnalato anche in sede giudiziaria per fare in modo che effettivamente la misura cautelare dell'obbligo di firma venisse inasprita perché quella chiaramente non lo conteneva affatto quindi considerate che quando è stato arrestato subito dopo l'omicidio di Iris era ancora una condizione di agitazione e di aggressività tale che chi l'ha arrestato ha dovuto utilizzare il taser perché non c'era proprio verso di farlo tranquillizzare e di farlo in qualche modo fermare rispetto a quelle che erano le richieste delle forze di polizia questo nell'immediatezza dei fatti quindi ancora non è chiara diciamo la ragione alla base di questa aggressione così furiosa però possiamo dire che gli indumenti intimi di Iris sono intatti quindi è più probabile l'ipotesi che l'abbassamento diciamo dei pantaloni sia avvenuto durante la collotazione non perché ci fosse un tentativo di violenza sessuale vera e propria peraltro ripeto lui ha sicuramente tutta una storia passata di precedenti condotte legate all'intimidazione all'aggressione anche diciamo al danneggiamento e quant'altro però non ci sono precedenti per tentativi di violenza sessuale non è stato espulso questo è un altro tema piuttosto caldo perché chiaramente essendo raggiunto da un procedimento penale e da un processo che sarebbe iniziato insomma che inizierà di via poco per quanto riguarda i fatti precedenti chiaramente non poteva essere espulso in questa fase certamente però avrebbe potuto essere ricoverato l'aspetto qui ancora più sconcertante è un altro perché in buona sostanza scopriamo che oltretutto una serie di precedenti che abbiamo visto e chiaramente sono precedenti che lasciano ampiamente intravedere anzi emergere platealmente una problematica psichiatrica molto rilevante e suscettibile chiaramente di interferire anche nelle sue condotte future quindi insomma quello che tecnicamente si chiama socialmente soggetto socialmente pericoloso quello che scopriamo in maniera veramente abbastanza inquietante che di fatto non era mai stato sottoposto a una perizia psichiatrica per quanto riguardava i fatti precedenti quindi il danneggiamento la resistenza pubblico ufficiale tutta una serie di altri reati di questo tipo il che a a me risulta veramente molto anomalo perché questo è un soggetto che chiaramente aveva delle componenti psichiatriche molto evidenti quindi mi domando perché non si è valutato sotto profilo psichiatrico posto che era stato comunque destinatario di una misura cautelare domiciliare per quale motivo non è stato valutato sotto questo aspetto visto e considerato il tipo di condotte che metteva in campo ecco questo forse è uno degli interrogativi più inquietanti di questa storia perché perché se fosse stato valutato dal punto di vista psichiatrico probabilmente sarebbe stato riconosciuto come infermo semi infermo di mente a seconda chiaramente della gravità della patologia che dovrà essere comunque valutata ma anche se fosse stato valutato semi infermo sicuramente sarebbe stato valutato social come socialmente pericoloso e questo avrebbe consentito di fare chiaramente delle scelte molto più contenitive anche come diciamo misura di prevenzione si poteva tranquillamente anche ipotizzare un inserimento in una rems o comunque una struttura idonea a contenere soggetti con queste caratteristiche perché il vero problema oggi è che sul territorio come vi dicevo i numeri sono spaventosi adesso ci si pone il problema al tavolo tecnico di fare quello che io vado suggerendo devo dire da anni ossia costruire una lista aggiornata di soggetti che si sono già mostrati come socialmente pericolosi sia italiani che stranieri ovviamente senza alcuna distinzione per me questo è un aspetto assolutamente secondario e a quel punto cercare di capire dove sono in che condizioni sono se sono stati presi in cura sotto il profilo psichiatrico da qualche struttura pubblica o privata che tipo di vita conducono se possono rappresentare ancora una minaccia per la collettività ecco questo è il lavoro da fare ora forse dopo questa ennesima tragedia annunciata qualcuno si deciderà a farlo ma non è così difficile non bisogna avere la bacchetta magica bisogna ragionare su quelle che sono le minacce che si sono già palesate come tali sul territorio e qui non mi pare che sia così diciamo difficile comprendere chi ha già avuto delle segnalazioni per condotte di questo tipo che sono condotte altamente indicative di una condizione psichiatrica difficilmente gestibile io sono dell'avviso che chi cura questo tipo di soggetti soprattutto per quello che riguarda persone che arrivano da altri paesi hanno magari storie personali caratterizzate da traumi terribili dallo sradicamento dalla dalla loro famiglia dai loro territori magari hanno subito anche qualsivoglia tipologia di violenza è chiaro che questo non è che può agevolare il recupero di una condizione mentale stabile indubbiamente non è questo il punto per carità ma credo che sia profondamente ipocrita da un lato gridare all'importanza di accogliere chiunque e dall'altro però poi i soggetti che manifestano in maniera conclamata problematiche psichiatriche che li rendono pericolosi per sé e anche per gli altri scusate se non è poco e trovo molto ipocrita poi però non di fatto non fornire risorse a questi soggetti per depotenziare la loro pericolosità per neutralizzare la loro capacità di nuocere anche a chi chiaramente ha tutto il diritto di farsi una passeggiata la sera senza rischiare di non tornare a casa quindi finalmente si sta anche se troppo lentamente rispetto all'esigenza si sgretolando il velo che fino adesso ha sempre un po' ammantato la consapevolezza per quanto riguarda le problematiche legate alla salute mentale uno degli scenari che sta effettivamente dimostrandosi tra quelli più emergenziali i dati gli ultimi dati resi disponibili sulla salute mentale in Italia sono spaventosi si parla di un soggetto su sei con problematiche di interesse psichiatrico non solo in relazione all'ansia alla depressione ma anche a problematiche ancora più diciamo potenzialmente rischiose sotto profilo delle condotte che possono essere poste in essere quindi finalmente si comincia a parlare seriamente di un monitoraggio preciso su chi effettivamente ha già dato segno di questo tipo di squilibrio e difficilmente peraltro in una condizione diciamo di cura possono essere certamente trattati questo tipo di soggetti possono essere certamente contenuti e aiutati a contenere questi aspetti così distruttivi della loro mente ma la cura è un'altra roba è qualcosa che faccio fatica a pensare possa essere applicato qui bisogna cominciare a ragionare in termini di contenimento ossia bisogna fare in modo che chi è in queste condizioni conclamate non possa girare in disturbato per le nostre città questo sarebbe già un buon punto di partenza soprattutto perché gli indicatori per stabilire qual è il rischio di escalation rispetto a soggetti con queste caratteristiche sono assolutamente affidabili e basta applicarli e vi assicuro che non è neanche così complesso farlo quindi a prescindere da qualunque valutazione ideologica o politica che francamente non mi interessa in questa sede a me interessa che la salute mentale venga riconosciuta come una priorità e soprattutto che le persone che purtroppo non godono di una buona salute mentale soprattutto abbiano già dato chiari segnali di malessere sotto profilo comportamentale di merendo minacciosi per sé per gli altri siano messi in una condizione di non poter più nuocere ossia contenuti quale sia la strada io qualche idea buona ce l'ho ma indubbiamente cominciare dal mappare sul territorio la presenza di soggetti con queste caratteristiche che si sono già resi protagonisti di vicende di questo tipo e cercare di tenerli maggiormente sotto controllo e prevedere nei casi che lo insomma che lo necessitano un ricovero a medio e lungo termine in strutture adeguate contenitive sia oggi una priorità assoluta perché questo tipo di scenari come vi dicevo sono tragicamente diffusi e purtroppo oggi la possibilità di fare un incontro terribile come quello che ha fatto Iris il 5 agosto scorso la corriamo tutti tutti quanti indistintamente non solo nelle zone apparentemente più degradate o malfamate o critiche delle varie città e questa vicenda nella pacifica e sonnecchiosa rovereto ce lo dice chiaro e tondo che non esistono più oasi felici sotto questo aspetto quindi io mi auguro che la tragica fine che ha fatto la povera Iris serve almeno da monito per poter ragionare in maniera fattiva non a chiacre ma fattiva sul territorio per neutralizzare contenere depotenziare questo tipo di minaccia che corriamo tutti tutti ora siamo sulla scia chiaramente della vicenda ragion per cui diventa facile parlarne perché chiaramente è un argomento di vivo interesse in questi giorni ma mi auguro che questo vivo interesse non non scemi anche poi successivamente perché la gestione di questo tipo di soggetti sul territorio deve essere demandata a personale che è in grado di gestire e individuare in maniera corretta chi è davvero una minaccia per il resto di noi formiamo le forze di polizia formiamo i magistrati trasferiamo le competenze di area psichiatrica perché evidentemente a volte sono bravissimi nel esercitare il diritto ma probabilmente un po' meno nel cogliere alcuni indicatori comportamentali dalle storie che vengono sottoposte loro creiamo una specializzazione per questa tipologia di problematica perché il problema salute mentale è soltanto all'inizio è esplosa ormai la problematica e vedrete che sempre più spesso purtroppo fatti di questo tipo sono destinati ad accadere anche l'altro omicidio che è accaduto peraltro sempre a roberetto fatalità qualche giorno prima marafait è un'altra storia tragicamente annunciata il cui finale tragico era tragicamente in qualche modo annunciato perché perché anche lì questa signora aveva fatto tantissime segnalazioni va chiesto aiuto in tante occasioni da quello che si legge sui giornali era esasperata anche lei aveva capito benissimo che stava rischiando la vita nel contatto con questo soggetto c'era una credine un rancore e un'aggressività crescente che lei ha segnalato e purtroppo questo non è bastato per salvarla allora io che chiedo che chi si occupa di valutare questo tipo di scenari lo faccia con la maggiore attenzione ma anche preparazione possibile perché scenario in cui viene lasciata a diciamo a la buona volontà e non basta degli operatori o in qualche modo a una situazione generica di presa in carico situazioni di questo tipo con questo tipo di portata dove c'è un ormai un calderone ribollente che cuoce da anni di rancore mai sopito e di crescenti minacce ecco attenzione perché anche questi sono scenari da tracciare con grande attenzione e anche qui anche qui servirebbe un monitoraggio attivo perché di storie di questo tipo di problematiche legate al vicinato di atti persecutori tra condomini ad esempio o da tra soggetti confinanti è un altro problema un'altra polveriera quindi diciamo l'attenzione deve essere massima perché anche qui c'è una problematica legata al disagio psicologico nulla a che vedere con la capacità di intendere di volere non confondiamo i piani parliamo di persone che si odiano per anni una delle due diventa sempre più aggressiva l'altra chiede aiuto e questo aiuto non lo riceve per un motivo per un altro non viene collocata nella giusta prospettiva la sua situazione e un bel giorno ne fa le spese non tornando più a casa bisogna formare il personale che si occupa delle valutazioni su questo tipo di scenari a cogliere in maniera più efficace i segnali di escalation perché anche qui c'erano tutti tutti quelli documentati in letteratura io credo che in questo spazio che ho sono seguitissima quindi vi ringrazio amici della grande attenzione che mi dedicate ogni volta ma debba anche essere utilizzato per lanciare delle insomma delle sollecitazioni a volte anche delle provocazioni perché io ritengo che effettivamente gli strumenti per poter gestire in maniera più efficace e soprattutto diciamo più veloce la situazione sotto questo tipo di ambito ci siano e bisogna applicarle quindi ben venga la decisione finalmente di monitorare soggetti con queste caratteristiche presenti sul territorio ma non ci dimentichiamo anche le vittime di altri scenari concreti costanti ripetitivi perché anche lì prima o poi come spesso accade come spesso raccontiamo ci scappa il morto e quando c'è qualcosa che era ampiamente prevedibile devo dire che l'ammarezza diventa incontenibile con questo vi saluto e vi do appuntamento a domani con un nuovo contributo continuate a seguirmi a presto grazie a tutti